Si chiama Smart for Speed ed è uno studio che coniuga mobilità sostenibile e divertimento di guida. È una a due posti senza tetto e cristalli laterali dotata al posto del parabrezza di un deflettore piatto nello stile dei classici superleggeri ad elica. Guida l'aria aperta dunque abbinata ad una scattante trazione elettrica ulteriormente perfezionata dalla funzione boost utilissima in fase di sorpasso. Così equipaggiata la Spyder accelera da 0 a 65 secondi e mezzo e raggiunge i 120 km orari. 135 km di autonomia della batteria servono 45 minuti per ricaricarla all'80%.